commento preventivo l'insegnamento a catena consiste in un discorso unico partecipato però da più entità o guide a seconda della profondità dell'insegnamento dove una guida finisce di parlare e lì inizia la guida successiva e così via questo tipo di insegnamento è caratteristico dei grandi cenacoli dove più guide si avvicendano nell'erogazione di insegnamenti molto elevati centro spirituale frattocchie attraverso flora prima entità ho avuto l'incarico di parlarvi del dolore cercherò di trasmettervi i concetti essenziali l'uomo ha del dolore un'idea del tutto personale non corrispondente alla realtà identificandolo come un cambiamento di stato in senso negativo così come la gioia lo è in senso positivo in realtà e in termini evolutivi il dolore adesso subentra un'altra entità che prosegue il discorso senza soluzione di continuità seconda entità è di fatto una situazione che cambia l'equilibrio interiore di un essere per cui il dolore va inteso come un'alterazione dello status quo null'altro il dolore che un essere umano prova talvolta per un evento negativo lo accompagna per un periodo proporzionale alla misura dell'evento corso stranamente mai un grande dolore inteso in senso umano viene in qualche modo annullato da una grande gioia interviene una nuova entità terza entità mentre a volte avviene il contrario in quanto l'uomo mai accetta lo stato del dolore se non attraverso l'elemento fede quindi quello che di fatto avviene è soltanto una situazione temporale che prosegue la seconda entità seconda entità si svolge nell'essere medesimo fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio che alla fine diventa accettazione pura ritorna la prima entità prima entità voi a volte non immaginate neppure come il dolore riesca a cambiare una persona determinandone il comportamento quarta entità dalla voce stentorea quarta entità forse se voi apriste il cuore potreste comprendere che il dolore non ha il significato che l'essere incarnato gli dà ma è semplicemente prova ed accettazione di quello che egli ha già da tanto tempo deciso prosegue prima entità continua